La Gioffra della Gioffre! La Gioffra è la vado a parlare in Italia! L'onore della Gioffra è la città che si sta preparando ha quattro giorni ricchi di appuntamenti e con noi abbiamo il vice sindaco Giuliana Braseschi buongiorno a tutti, siete prontissimi? Siamo prontissimi, non vero piacere che affrontiamo questi quattro giorni di sagra dopo un paio di anni un po' sotto tono. Siamo pronti con tutte le cauzioni e le prudenze del caso ma non vogliamo rinunciare a testimoniare la festa del nostro patrono ma anche la gioia di ritrovarci di nuovo tutti quanti. Abbiamo cominciato a gioia di sera con il caffè concerto offerto da Nutiede nella bellissima sette della piazza San Rocco, un piccolo cameo di bellezza e di eleganza. Oggi ci sono le giostre per i nostri bambini, da stasera si mangia allo street food nell'area verde del sporciololo. Qui stiamo inaugurando la mostra che tutti gli anni ci regalano i nostri attivissimi fotocene amatori e partono anche la beneficenza, le bancarelle della lobbistica, le bancarelle di generi vari, domani, per cui c'è per tutti la possibilità di divertirsi e di ritrovarsi. Grazie, grazie mille.